bene ragazzi eccoci qua con un nuovo video degli accessori e ricambi metal detector rutus in molti mi avete chiesto di poter comprare qualche ricambio allora facciamo una bella serie di video con parte dei ricambi che ho quelli che ho in più e li posso dare cedere ai clienti perché dicono io c'ho il metal detector che va molto bene non lo voglio cambiare e mi voglio premunire per il futuro per non rimanere a piedi così si vogliono comprarvi i ricambi e io faccio vedere quelli che ho partendo dalla rutus allora una bella bobina rutus frequenza 4.4 18.4 kilohertz da 11 pollici 120 euro la bobina piccola da 6 pollici e mezzo 6 pollici e circa sempre per l'utus alter 71 ultima e argo ne 85 euro modulino wireless per ricevenza cuffia senza fili per l'utus 40 euro sportellini chiudivano batteria 5 euro la coppia porta pile porta pile da inserire dentro nel vano batteria per tutta la serie rutus 8 euro cada uno qui abbiamo il pannellino frontale con naturalmente vedete il flat che viene fuori con la sua tastiera pannellino con tastiera 20 euro largo ne anche per rutus ultima 20 euro anche per rutus alter 71 20 euro ovvio che se uno prende più accessori un pelo di sconto glielo facciamo ma questi sono già prezzi molto buoni per ringraziare tutti i nostri clienti che mandano gli amici a comprare da noi cerca metalli perché sanno che facciamo un'ottima assistenza e ottimi prezzi e li confermiamo invece qui c'è la centrale elettronica completa col pannello e il pad del rutus ultima 160 euro mentre la centrale completa del rutus alter 71 vedete col suo pannello frontale e tastiera 200 euro tenete presente che un accessorio così di ricambio dovrebbe costare sui 300 350 euro e io vi faccio sempre prezzi buoni la copertura del display per rutus tutta la serie 15 euro qui abbiamo la bacchetta che va alla bobina 10 euro qui abbiamo il sottogomito che va messo nella nell'asta 15 euro qui abbiamo i collo i tolloc i camlock 5 euro cada uno qui abbiamo la maniglia di scomposta in due per tutta la serie rutus 15 euro qui invece abbiamo qualche vite che poi le trovate di plastica nelle fermente da poco 3 4 euro oppure se comprate un po di roba ve ne do una in omaggio qui invece abbiamo l'asta as dell'asta completa questo è solo l'inserto as hai capito? quella invece è una pompa per sollevamento acqua che devo revisionare l'asta 15 euro e qui abbiamo un bel poster della rutus allora il video l'abbiamo fatto se avete degli amici che sapete che cercano dei ricambi degli accessori per i metal detector rutus io ho fatto il video anche per quelli che me li hanno chiesti che sanno che il rutus va bene e non vogliono cambiarlo nel caso che rimangono a piedi ma lo vogliono riparare o aggiungerlo di corredo di accessori per sicurezza nel caso ne hanno bisogno prendeteli subito perché me ne hanno già chiesti in tanti e vi ho fatto questo bel video fatelo vedere a tutti gli amici ciao